Allenatori, ultimamente vi state veramente superando, può questo episodio raggiungere i 12.000 mi piace? Sarebbe il primo record della Pixelmon, infatti tutti gli episodi hanno raggiunto sempre 10.000 like, vediamo se possiamo batterlo Conto su di voi, so che siete fenomenali, questo è l'episodio più atteso della serie finora, quindi un bel pollicione in su, buona visione Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic 95 Ita e benvenuti nel primo episodio della Domenica Survival, qui con la Pixelmon Il primo episodio delle 10, mi raccomando vi aspetto anche alle 14 con un nuovo episodio Perché oggi ai generatori andremo a fare qualcosa di veramente speciale Per questo un bel pollice in su, un commento, nello scorso episodio diciamo che più di 1600 persone Nei commenti hanno ipotizzato chi poteva essere questo misterioso personaggio che ci ha rubato la Master Ball Ebbene finalmente siamo nel Nether, pronti ragazzi per andarla a recuperare Allora, in molti avete scritto che addirittura poteva trattarsi del Team Galassia E cavolo, ci sta pennello Nel cartello, nel cartello ragazzi infatti le lettere corrispondono alla perfezione e io nemmeno ci avevo pensato a questo È stato qualcosa di veramente assurdo C'è anche chi ha ipotizzato altre cose ma diciamo che non erano il massimo Però Team Galassia, cavolo se ci sta E potrebbe essere anche un collegamento intelligente perché nel Nether, ovvero il mondo distorto, io almeno lo chiamo così Potrebbe nascondersi Ghiratina E forse il Team Galassia voleva la Master Ball proprio per catturare Ghiratina? Non lo so, un commento di un ragazzo è stato questo Quindi, non lo so, io do sempre retta a voi Quindi commentate, commentate, commentate Siamo nel Nether, siamo sponati proprio qui Dove c'è un percorso a quanto pare da fare per recuperare la Master Ball Leggiamo un po', hai fegato, continua la via, la risposta la troverai presto Ok, la via immagino sia quella e non credo che devo andare a zonzo per il Nether Infatti c'è proprio un percorso che qualcuno ha costruito Oddio, rifornisciti o non ce la farei mai Ok, ci ha lasciato anche qualcosa nelle ceste Oh mio Dio Porca miseria quante pozioni Max E una marea di rivitalizzanti Allenatori, si pronuncia una sfida alquanto difficile E io ancora non ho un team in grado di poter sconfiggere una tale minaccia Tutti questi rivitalizzanti ragazzi Wow, non mi sono portato appresso il mio team ideale Cavolo, ho lasciato anche Groudon, Kyogre e Rayquaza Però credo che con Tyranitar posso fare molto In quanto Tyranitar e Charizard sono i miei poco più forti del team Io mi ero portato giusto Mew ragazzi Ma non credo che serva qualcosa in questo caso Vero Mew? No, non credo Comunque ci siamo Ci siamo riforniti Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare Wow, il nether è fantastico raga È veramente assurdo Ma guardate che cosa hanno costruito Qua c'è un Blaziken E qua un Delphox What? Ok, una cascata Di lava Pronto per il parkour? Non imbrogliare il parkour Tecnicamente potrei usare il mio Staraptor Ma così non ci sarebbe divertimento Ok Dobbiamo stare attenti allenatori Perché se caschiamo Qua moriamo Ok Fino qua nessun problema Ok Ok Mi tremano le Oddio ragazzi Casco qua alla fine Ok, uno Due Tre È difficile raga È difficile per me Che non gioco a Minecraft Ormai gioco da 5-6 mesi a Minecraft Quindi Ok Per voi magari sembrerà una cazzata Ma per me non lo è Oh Si perde anche vita? Si perde anche vita? No Oh Qua me la sono vista brutta Ok Ok Allenatori È stato Si cascola a muoio Sicuro Non sei per niente male Affronta il tuo destino Oh mio dio Guarda quel Typelusion Che figata Oddio raga Oddio 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 Dobbiamo stare attenti Dobbiamo stare attenti No raga Ma il Nether È bellissimo È qualcosa di stupendo Assurdo Assurdo Di platino Oddio Guardate qua c'è anche una cascata Tra l'altro Wow Di lava Non sei pronto Ah pronto per Oh mio dio Si è cascola alla fine Non sei pronto per cosa? Hai coraggio Coraggio Porco schifo Guardate che roba Cioè io dovrei arrivare fino là Oddio Ok Piano Ok Mamma mia raga Cioè qua c'è da venire Se cascola a muoio eh Se cascola a muoio Mamma mia Ok 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 Devo stare attento Ma non potevo prendere il mio Staraptor E volare Ma non sarà Oddio no raga È troppo distante No raga Qua ci muoio No è troppo È troppo distante Mamma mia Mamma mia No quello è impossibile No quello È impossibile No 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 Sopravvivi Sopravvivi Mamma mia per un pelo Per un pelo raga Meno male che c'ho la difficoltà pacifica Nella Pixelmon Perché se no Ero morto Mortissimo raga Uuuu Mamma mia Oh per un pelo eh raga Proprio per un pelissimo L'aveva detto il cartello Che non ero pronto Ma io ragazzi Nel parkour Non sono affatto Bravo Non Cioè nel parkour Sono bravi quelli che a Minecraft Ci giocano tutti i giorni Da anni Io non sono bravo a questo Ok devo stare attento Oh Oddio Però farlo tutto di fila è meglio eh Ok Ghiratina È la salvezza del mondo Ghiratina Allora aveva ragione Quei ragazzo Che nei commenti Mi aveva scritto di Ghiratina Ah beh Se questa Che cos'è questo materiale Raga che mi fa male Questo materiale qua Che cos'è Sembra tipo Lava essiccata Mi fa male Se ci passo sopra eh No ma è bellissimo Il Nether ragazzi È proprio un posto Assurdo Ci sono delle Statue di Inferna Che fanno veramente paura Ghiratina È la salvezza del mondo Secondo me si tratta Proprio del King Galassia A questo punto Piano Piano Guardate che Che inquietante Che è Porca miseria Mew Esce un po' fuori Dalla balla Eccomi va Fate un giretto Ok No io non ci vado là No ma io manco morto Ci vado là Forse non avete capito Ok Non è che sbatto la testa E ci muoio Uh Vai Oh my god Oh my god Ok Finora Sembra che la difficoltà L'abbiamo avuta soltanto Su quel pezzo laggiù Ma Non sembra così male Ma la Master Ball Dov'è? Io volevo soltanto Catturare Mewtwo Non posso crederci Come hai fatto Porco schifo Cioè se casco laggiù Ragazzi alla fine Come ho fatto? Non lo so nemmeno io Come ho fatto Beh fino a qua Non c'era difficoltà Però Ok Eh Devo fare questo pezzo qua Uno Due Tre Quattro Ok 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 No 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 Di nuovo Di nuovo no Oh Relax Relax Federica Relax Se vi state chiedendo Perché nella Pixelmon Non ho messo la difficoltà È semplicemente perché Nella Pixelmon È più difficile trovare il cibo In quanto ci sono i Pokémon E nessuno gioca in difficoltà Anche Facile Normale O difficile Cioè Non Almeno che non mangi le mele Tutto il tempo O carote Si carote Potrai coltivare le carote In effetti Ma Eh In effetti Non ha Non ha senso Mettere la difficoltà Nella Pixelmon Ok Ok Ci siamo Siamo salvi Per ora siamo salvi Un attimo che Vedo un attimo l'inventario Ok Ma che storia Che storia Sei troppo forte Mi hai sconfitto Non posso crederci What? Per ora Che vuol dire? Ti ho sconfitto? Beh carissimo Ti potevi impegnare di più Perché qua Eh Ok Andiamo a vedere All'allenatore Cosa c'è qua in fondo C'è un altro portale Oh Cavolo Qua mi indebolisce A parte che Se ci sto troppo Muoio piano piano Però Devo stare attento Molto attento Ok Il T G Si farà Vivo presto Il T G Te Am Gal 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 I Gal Galassia Ci sta pennello Allenatori È tua Tanto il leggendario Ghiratina Non è qui Il leggendario Ghiratina Non è qui In effetti Ghiratina Allenatori Nella Pixelmon Non c'è mai stato Mai proprio Nemmeno palchi Di alga Tecnicamente ci sono Ok Andiamo a vedere Cosa c'è qua dentro Eccola Eccola la mia Masterball Madonna Mo me la porto Sempre appresso Non la darò mai più A nessuno Però Allenatori Non capisco Perché ho Revitalizzanti E pozioni E alla fine Qui dentro Non c'è nessuno Mi pare Alquanto strana Questa cosa Ok Torniamo Nella Nella realtà Wow C'è un velo Di mistero Assurdo Allenatori Assurdo Eccoci tornati Ok ma Dove ci troviamo Non capisco Tra l'altro La minimappa Non l'ho nemmeno Attivata Attiviamola Ok X Meno 1157 Siamo In una Foresta Praticamente Una foresta Speravo che Qualcuno Si faceva Vivo In realtà Per sfidarmi Ma Ci hanno riconsignato La master ball Così A caso Per ora Però Ok Laggiù c'è anche Un villaggio Ne approfitto Ne approfitto Allenatori E c'è anche Una poke ball Ottimo Puro aroma Fortunati Siamo oggi Ok Torniamo Al villaggio Magari c'è qualcosa Qua C'è anche un Meganium Tra l'altro Esponato I miei pokemon Sono sani Alla fine Non ho fatto niente C'è una cesta Magari qua Nel villaggio Allenatori c'è Il Casa del fabbro Così da poter rubarli Qualcosa Ma a quanto pare Non vedo nulla Che assomiglia A una casa del fabbro E niente Io direi di tornare A casa nostra Però la cosa Che mi Che mi fa pensare Ma ragazzi Non ci hanno ridato Le medaglie Dove sono Le mie medaglie Non ci sono Wow Che storia Ok Io allenatori direi Di ritornare a casa Allora Immediatamente Credo che la cosa migliore Da fare Sia la tipparci A casa mia c'è la medaglia Fuoco Ma la medaglia La mia medaglia Dov'è? Quelle della palestra Mi mancano ancora A te ti terrò sempre con me Non ti metterò più Là dentro Ok allenatori Andiamo a vedere Magari sono tornate le medaglie Andiamo a vedere Secondo me Secondo me Non ci sono Chi può averle prese? Non è finita qui Grazie per la visione!